In Sicilia nasce Mega Hub della Meccatronica, innovazione e nuove opportunità di crescita. Filiere orizzontali per mettere a sistema NowHow e capacità progettuale per cogliere le opportunità dei programmi comunitari, cluster aziendali per intercettare le direttrici tematiche del PNRR, sinergie per aggregare ricerca e sviluppo con l'obiettivo di accelerare i processi innovativi e la mission dell'accordo firmato dai Presidenti di Confindustria Catania e Confindustria Siracusa Antonello Biriago e Diego Bivona e dal Presidente del Distretto Produttivo della Meccatronica Antonello Mineo. Le due associazioni degli industriali hanno condiviso il patto di sviluppo del distretto, aprendo così la strada alla nascita di un Mega Hub della progettazione e della innovazione in Sicilia. L'intesa, sottoscritta nella sede degli industriali a Catania, consentirà di creare reti e partenariati tra imprese, connettendo le eccellenze dell'Etna Valley e del Polo Industriale di Siracusa con le aziende della Meccatronica della valle di Termini Merese, che aggrega anche aziende del Nord Italia che si apprestano a investire in Sicilia. Alla firma è presente anche Giovanni Lofaro, Area Manager di G Group, partner del distretto. La nostra adesione al distretto della Meccatronica, Polo che raggruppa importanti eccellenze industriali, apre la strada a nuove opportunità di crescita reciproca, ha detto il Presidente dell'Economia Industria Catania Antonello Biriaco. Innovazione, sostenibilità, digitalizzazione sono le chiavi di volta dello sviluppo industriale e in questi ambiti siamo pronti a mettere in campo sinergia che avranno un impatto significativo. Catania risulta la seconda città in Italia per produzione di ricchezza nell'industria con un valore aggiunto di quasi 2 miliardi di euro e ciò grazie a un tessuto di imprese resilienti e aperto all'innovazione. Dai player mondiali della microelettronica e della farmaceutica alle industrie agroalimentari e metalmeccaniche, dalla sanità primata al settore Aetec e ICT, dall'edilizia al turismo, con l'aggregazione al distretto potremo dare una spinta importante agli investimenti in tutte le direttrici tematiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per il Presidente di Confindustria Siracusa Diego Bivona, questo accordo con il distretto meccatronico è quanto mai tempestivo e fondamentale. In un contesto difficile come quello siciliano, le nuove prospettive di sviluppo legate all'innovazione necessitano di grande coesione tra il pubblico e il privato, ha sottolineato Bivona. Le imprese oggi più che mai hanno bisogno di opportunità per fare rete e migliorare la competitività mediante progetti congiunti di ricerca, sviluppo e innovazione di transizione ecologica. Ciò vale soprattutto per le aziende del più importante polo energetico del Paese che deve affrontare la grande sfida della decarbonizzazione e anche la produzione di nuovi combustibili a basse emissioni di CO2, biocarburanti, idrogeno e nonché la realizzazione dei sistemi per la cattura della CO2, solo con un'azione congiunta delle imprese, delle varie filiere, dei centri di ricerca e delle istituzioni si possono accogliere le opportunità che a tal fine sono previste non solo dal PNRR ma anche dai programmi europei di sviluppo e coesione dai fondi per una transizione giusta. Riconosciuto per decreto dall'assessorato all'attività produttiva della regione siciliana, il distretto meccatronica ha come missione quella di promuovere l'aggregazione tra le imprese allo sviluppo di progetti volti alla ricerca e all'innovazione di processo e di prodotto con il rinnovo del patto di novembre 2021 e l'avvio del polo dei termini emerese in partnership con Invitalia si è avviata la costituzione dei cluster di imprese sulle drittici tematiche del PNRR, affermato Antonio Lumineo. La firma dell'accordo con Confindustria Catania e Confindustria di Seracusa rappresenta un passaggio fondamentale per poter interconnettere le aziende della Sicilia occidentale e orientale costituendo filiere lunghe su tematiche strategiche come transizione ecologica e digitalizzazione. Filiere lunghe e robuste sono la risposta per fronteggiare gli effetti negativi dell'economia prima a causa dell'emergenza pandemica, adesso per guerra in corso e dare corso all'ambiziosa progettualità a valere sul PNRR. Grazie. Grazie.